Continua il nostro viaggio tra i posti abbandonati della nostra provincia. Oggi siamo a Rosolina Mare, in località Casoni, in quello che era il Camping Margherita. Siamo in via Foci dell'Adige, il campeggio occupava una superficie di 64 mila metri quadri, con spiaggia dedicata, ed era considerato un campeggio a tre stelle. Oggi purtroppo si presenta così. Grazie a tutti. C'è comunque una concessione edilizia che dovrebbe portare alla riapertura di questo campeggio per rinverdire gli antichi fasti. Speriamo! 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 Grazie a tutti.